Maika Christensen per Modena in battuta. Forte la palla in campo! L'Ace dell'Hawaiano! Venti a 19! Eccolo! Il vantaggio che Modena tanto cercava. Impone il suo gioco, impone il suo ritmo, Modena impone pressione. Maika Christensen! Maika Christensen! Ace dell'Hawaiano! Per l'8 a 5! Più 3! Anche perché Caretti ha dimostrato che alcuni richiama e altri no, secondo un criterio tutto suo. Christensen tira molto forte la palla e dentro, incrocio delle righe. Io li voglio ricostruire. A fine stagione recupero tutti i break a servizio e momenti critici da parte di Maika Christensen. Proprio il capitano, alla seconda battuta consecutiva, dopo l'Ace. Ce n'è un secondo di Ace! Sono due! Gli Ace coi fiori! Quelli che arrivano dalle Hawaii, 17 a 16. Time out Ravenna! Clamoroso Maika Christensen!